signore e signori buonasera dal teatro abc di catania va in onda di nuovo insieme presenta salvo la rosa buonasera buonasera bentrovati vorrei ancora un bell'applauso perché vi voglio ringraziare per il vostro affetto buonasera siete sempre ospiti di casa mia la casa di di nuovo insieme stavo suonando qualcosa per rilassarmi prima di cominciare un'altra puntata siamo arrivati a 14 oggi è la puntata numero 14 di questa seconda serie ma devo dire che i riscontri ci sono siamo molto contenti quindi grazie perché su tgs su rtp in streaming e sui social ci seguite sempre con grande affetto e allora a nome di tutta la grande famiglia di tgs di rtp del teatro abc di catania e di di nuovo insieme vi diciamo grazie con tutto cori grazie e allora partiamo subito perché oggi sarà una puntata particolarmente ricca tra qualche istante arriverà il signor litterio scalisi invece voglio subito chiamare questa mia collaboratrice personale che è diventata già un personaggio perché il nostro pubblico ormai la conosce le vuole bene siete in tanti che scrivete per lei e quindi l'applauso che vi chiedo è per nadia de lucca buonasera signorina guardi sto bene e questa volta sono io che ho una sorpresa per lei nel senso che mi è arrivato un messaggio personale un messaggio personale che però riguarda un po tutti noi quindi riguarda anche il suo lavoro il suo lavoro di ricerca glielo leggo eccolo qui mi sono preparato a scrivere è una nostra telespettatrice che si chiama clelia scrive da palermo studia storia moderna e contemporanea alla facoltà di lettere dell'università di palermo clelia ci scrive porgo i miei complimenti a tutti voi ma soprattutto seguo con attenzione le piccole informazioni che voi ci date sulla storia del nostro teatro siciliano e quindi in tal senso ecco siamo arrivati al nodo della questione mi permetto di avanzare una piccola richiesta si potrebbe avere qualche notizia sulle attrici siciliane storiche non le sembra uno spunto molto bello per la nostra trasmissione signorina è una bellissima occasione anche questa no assolutamente sì di conoscenza intanto bisogna dire che la nostra sicilia è stata prolifica nel dare i natali alle grandi attrici eh sì infatti io ricordo soprattutto rosina anselmi questa grande attrice che è stata un po' la compagna di scena di tanti artisti e soprattutto di angelo musco pensi che nino martoglio scrisse per lei proprio determinate parti parti speciali in tante commedie comiche del teatro siciliano beh ma anche Mimia Guglia e Virginia Balistreri le grandi attrici tragiche che hanno recitato accanto a Giovanni Grasso come no lei sta parlando di tante donne forti donne indipendenti anche in un'epoca nella quale purtroppo le donne avevano sicuramente meno spazio di quello che fortunatamente hanno oggi beh sì ma la mia preferita rimane una che secondo me la più grande ecco si chiamava Marinella Bragaglia era un'attrice agrigentina una grande donna e allora facciamo a questa maniera signorina Nadia lei prepari un servizio ad hoc sulla storia di questa nostra attrice siciliana e magari ce lo presenterà nella prossima puntata o magari nelle prossime settimane con immenso piacere mi metto subito al lavoro assolutamente sì buonasera signorina Nadia grazie e allora noi intanto entriamo nel vivo di questa nostra trasmissione vediamo se arriva lui eccolo signor La Rosa signor Litterio ah scusi il ritardo ah buonasera signor Litterio buonasera la vedo ancora una volta con la borsa della spesa ho stato a fare un poco di spesa sì a piscaria eh ancora una volta nella Rosa con il momento che mi avete dato ma ha portato di 41 euro a 45 mi cangiava la vita da così a così esatto ma è ricco io ho comprato 50 centesimi da un giove ma proprio così non ha badato a spese ci ne vanno una eh ora me ne farò mezza fritta e mezza baccafico eh va bene poi cattare due fenocchie poi con un po' di roba e finalmente 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 mi posto ora mi faciste riposare che sono stanco si metta lì tranquillamente si riposi ma chi la farà spesa le donne che vanno a fare la spesa se mi ritassi una statua eh sì è faticoso bello divertente se vogliamo no ma faticoso 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 eh i bado nei picceridi i compagni nella scuola fanno la spesa cucinano molte volte magari lavorano fuori e certe mascole come a lei che si ma perché lei alla fine di tutto se la prende sempre con me suscitando anche l'applauso del pubblico che non capisco eh ma io non capisco ma allora sa ma lei quando parla di lavoro io travaglio io lavoravo che lei che cosa intende come travaglio ma lei che mi stai rifacendo lei ogni volta cerca di sfruculiarmi cerca di insultarmi cerca di farmi innervosire ma io non ci casco più io faccio il lavoro del presentatore io presento lei si picchia il microfono ora manco chi stiamo manco questo sforzo tenere un microfono no perché abbiamo il microfono ricordo che lei ieri ha cominciato a raccontarci questa disavventura che avete vissuto con la vostra famiglia con la famiglia di suo cugino alfio con la famiglia dei suoi cugini arrivati dal piemonte il primo maggio ecco vorrei che portassimo a compimento questa disavventura col resto del racconto che erano arrivati signora rosa dove se lo ricorda erano arrivati quando quando ci abbiamo ricordati che eravamo scordati alfio ecco perché alfio si era sentito male era rimasto a terra voi lo avete a canamo tutti i parenti esatto soccorso non mi siete dimenticati alfio l'autista che era chiedo cortolido ha fatto una manovra abbiamo tornato indietro non può immaginare avevo passato mezz'ora non può immaginare come troviamo alfio cioè i formicoli già sono stavano portando noi su di nuovo erano tornate di nuovo le formiche che lei aveva mandato via col fuoco perciò io adumai un altro foglio di giornale chiedo l'autista dell'ambulanza mi disse non me lo fate vedere non me lo fate vedere non lo posso vedere non capire di sensi sarà stavano la macchina ci abbruciamo tutti i formicoli ci resemo una scutolata accionavano un'altra tutta paia l'affio non ci traseva no alfio perché erano tutti sottovuoto disse ma non è che potremmo lasciare qua e allora a passamano un torinese a cirino e filadelfo io un piggiamo signor rosa un miso ma ditta tipo morto un miso ma ditta così poi muteramo piggiamo di scidio non poteranno sopra l'ambulanza certo poi piggiamo dica così usiamo un codio un miso ma ditta e non miso sopra la testa quindi proprio sopra le vostre teste la salvezza è che l'ambulanza sono alta questo è vero perciò noi erano tutta ditta così ed alfio mi sono due l'angolo sopra la testa e chiudiamo un sportello ah ah c'è ride voglio vedere che facevi voglio vedere se eravate al posto loro perché non c'entrava non c'entrava nella cabina c'era un spazio non si ci può mettere nudo solo il medico solo il medico l'autista certo il soccorritore esatto invece come un miso ma ditta così ditta ci fai che segnale e se potremmo partere ah che strada sterrata che già gliel'ho detto ogni scaffa do 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 che affio con la grambanza andavano dal tetto d'ambulanza boh non sa cio aveva ingerito aria e forse aveva stato a caponatina e aria e aria che stavamo essere io forse fu l'effetto dell'acqua che lo stava avvelenando aveva avevo stomaco pieno di aria si io già immagino ogni scaffa che prendeva sta panza andappavano del tetto dell'ambulanza signor l'arrore a pressione c'era un goppo di eh quello era quello era quello ma i scaffi erano una pressa in auto c'era una strada di campagna lei lo sa da dove esce l'aria si io lo so da dove esce l'aria non c'è bisogno che lei me lo spieghi i loro signori lo sanno è certo che lo sanno da dove esce l'aria lì da appunto di dove esce l'aria si c'era lei c'era io giusto giusto casco zitta esatto si dopo un quarto d'ora asco zitta era marro no signor e attento a quello che dice e non mi poteva muovere no non mi arroamo arroamo ospitale quella dentro il puzzo eh certo il puzzo della puzzo tutto il viaggio così tutto il viaggio così si appena arroamo rapemmi sportelle rapi sportelle subito di corsa niscio a torinese graziella torinese i due picci ridi cerino filadelfo crucifissa niscio i unghia correro per me e tutto eh certo perché arriva un'ambulanza piena di persone parella che arrivano di tutti un primo che arrivò di noi picchiano e fa madonna che cosa è successo un incidente aereo si eravate tanti dice che cosa è successo un deragliamento di treno dice no no dice che c'è stato un tamponamento a catena dell'autostrada e poi no no c'è una che mingga successe c'è sedente c'è stato un malessere a Chiana da Catania c'è tutte queste cristiane che entrano all'ambulanza che cosa facete c'è sì parenti stretti eh certo i parenti stretti perché eravate tutti quanti ammassati ammassati là dentro sì l'ultimo di tutti esce Alfio ubbiono andare a Barella e partono dentro all'ospedale meno male signor La Rosa che in questa terra nostra cui è ricco d'amici è scarso di guai questo vale sempre stavamo correndo a Cabarella verso il pronto soccorso sì c'è la cruce russa sì quando vengo intercettato dalla seconda traversa di curva prima di entrare in la porta da un infermiere un amico di Danò di Adrano di Danò di Adrano sì quando mi intercetta mi fa signor Lettere mi conoscevo esatto mi conoscevo grazie a te certo dice chi è un parente suo c'è il mio cugino di sangue scalise scalise dice uno sta portando ci sono pronto soccorso che si andava male dice ma chi è si bruciava no lo bruciai io certo è stato onesto perlomeno lui si è sentito male che ho avuto un'intossicazione violenta mi dice signor Lettere io sono pronto soccorso arresta e forse che ne muore ci camminasse con me ecco e ci prendiamo da Barella io ci sono collegati lei vede che ci penso io ne infocchiamo in una porticetta in questa porticetta tra siamo in un corridoio largo grande lo portiamo in una stanza dove c'è un paziente che se ne sta andando e lo mettiamo lì nel letto che si sta liberando perfetto giusto ci sentandola ringrazio e sono contento che il paziente se ne sta andando guarito no che capivo mi dice se ne sta andando ah se ne sta andando ho capito io se ne sta andando a casa ah se ne sta andando gastamore e ho capito adesso si appena edu muore ma anche l'enzuola e ci cacciamo che cosa orribile che cosa orribile che cosa orribile che cosa orribile arriviamo in questa sala carapa a porta e il paziente non se ne era ancora andato che poi ricco io se te ne dire ma dire ma non è arrestare arresta con tanto piacere ma glielo hanno spiegato quel povero uomo non è che se ne doveva andare a casa con le sue gambe purtroppo se ne stava andando se ne stava andando nell'addola esatto stava ma non se ne andava per passare a miglior vita perciò quell'amico buono di Adrano per essere che senta signor Letter come lei vede ancora è un osso duro si ora per questione di minuto dice ora a sua cucina intanto mettevo un tuo letto vicino a il a così un letto già è occupato guardi non vorrei più sentire queste cose però va bene con tempo cominciavo a dare segni in bocca dello sveglio dice parrai andari tutti pila bruciata tutti pila ancora si dice Alfio vedi che te stiamo curcando un tuo letto vicino a uno stai tranquillo ho letto e a due piazze Alfio ma carica tu ci parli e chissà non ti risponde andi impressionare e perché è un tipo ma te ho capito ho capito anche se tu dovessi trovare che avevi i piedi fritti quando tu ci vi chieni e Alfio non è costruito tutto come dire c'è la pressione a 380 esatto i genti si mantengono un po' più freddo e dove mi dice va bene va bene va bene va bene dappiamo sta porta signor e che c'era e che c'era una stanza enorme grandissima 18 letti 18 letti nella stessa stanza 18 letti 19 malati non può essere uno in più ce n'era due erano indossi soli ma non si può una testa e una pene si nel frattempo che ci pigliamo l'armadietto per Alfio e lo cucchiamo chiedo se ne ho subito subito ci sono i cannelli i quattro cannelli ho capito sì ho capito Alfio si ci cocavo vicino io ebbi la disgrazia di dire c'è Alfio Alfio spogliati che levi dà la camisa così non si vede che sei vestito io ci volevo dire quando ti commogli fino a qua si vede che non dai sospetto che sei vestito esatto idro che aveva la testa dura non è che se lo aveva sulla camisa che ha fatto se lo aveva la camisa i cavosi e i cosetti è spogliato proprio come se lo aveva i cosetti sì eccoci signor Loro sì io che scoppiava la guerra chimica ce l'aveva io che arrivavo se da museo esatto con la nucleare ma non solo chiesto se lo aveva i cosetti e se come non sapevo non la va a mettere perché era senza scarpe perché gli mettono delle scarpe con le cosette in le mano mi dice l'eterio queste cosette non le va a mettere e certo immagino a quando scoppiarono tutti i temoclisti se tu le agiti da Intra che c'era un'aria di allegria perché dopo si familiarizza i parenti che fanno amicizie attraiti ma non si potrebbe fare negli ospedali a Catania quattro parenti in visita parenti 24 H su 24 una volta 19 per 4 3 volte di quanti situati questo è vero stasera è vero signora Rosa si scambiavano i nomi scambiavano i cognomi scambiavano i numeri di telefono si scambiavano l'individuo allegria si scambiavano i raggi no anche i raggi uno era con la pedi innessato e ci buttare i raggi chiede c'era una testa disegnata scambiato chiede c'era una testa disegnata tu ne hai la testa e hai i piedi non era bello ma non si è persa di coraggio non era bello scambiarsi per la geografia no io racchiavano supera una seggi e chiedevo c'è qualcuno che ci manca la testa e da lontano si disse si ammio ma si mette a piedi io tornavi in raggi si scambiavano come io giravo prima scoppiarono tutti i democriti pa 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 e dopo è morto è morto che affatto non è possibile non la rosa come al Lazaro si scambiavano si prendevi i cannelli e si cuccavano i cannelli e si cuccavano vabbè il morto lasciamo stare lasciamo perdere suo fuggino Alfio ha il potere di risuscitare i morti con la puzza dei piedi risuscitarli per un momento esatto lei ci ha anche detto che proprio i piedi di Alfio servono per pescare perché tutti i pesci salgono a galla morti quando li mettete a mollo dell'acqua la nostra esca è lui signora Rosario vabbè lei invece è la nostra gioia perché il signor Litterio Scalisi ci regala sorrisi e divertimento regia pubblicità e torneremo di nuovo insieme tra pochi minuti ritorniamo come dice il titolo del nostro programma di nuovo insieme qui a casa sua e su RTP a casa mia quindi ringrazio anche gli autori che hanno deciso di farci fare un programma a casa mia perché è tutto più comodo è tutto più a portata di mano e a casa mia c'è anche la signorina Nadia che chiamo subito Nadia si eccomi qui eccomi qui allora Nadia che succede che novità ci sono niente faccio una pausa sa si prima di rimettermi al lavoro mi dica sono sa sono a buon punto con le ricerche con la ricerca con gli studi bravo bravo intanto volevo farle vedere una cosa molto divertente che ho trovato in rete riguarda proprio lei signor Litterio e di che cosa si tratta ma lo sa che lei sta diventando un vero e proprio influencer no stanno niente l'anno scorso l'è beccherazza d'influenza no a me quasi spagnolo e poi avreva 40 quest'anno niente perché mi ha fatto il vaccino ha capito si si poi questo cosa che c'è stato mi ha messo una quarantina come moglie a casa no stanno niente l'anno scorso mai viste brutta ci deve essere stato un qui pro quo un qui pro quo che sono i nebuti di paperino no che c'è qui pro pro qui pro quo qui quo qua c'è stato un equivoco un equivoco un equinozio esatto la signorina Nadia voleva dire influencer l'influencer è quello che condiziona con le proprie scelte e con le proprie idee anche le scelte degli altri attraverso attraverso il web e questo sono io eh sì dunque sta succedendo che il signor Litterio grazie alla sua simpatia alla sua freschezza e al suo umorismo ha finito col far nascere degli emuli no i cosi giusti no io no mezzutano e c'entra in che senso io no mio zio Tano in campagna idro li alleva le fa copiare e gli fa nascere eh signor Litterio gli emuli non sono lei ha detto gli emuli no lei ha detto che io faccio nascere gli emuli ho capito mio zio Tano li alleva le cottiva e li fa copiare non sono gli emuli sono gli imitatori ah no i emuli no ah no ho capito i emuli e che sono invece imitatori imitano a mia esattamente soprattutto per quanto riguarda la bellezza la bellezza quella è un fatto così di natura non ci posso fare niente e l'eleganza e quella è la raffineria che io ho proprio di natura certo perché siamo a Priolo praticamente no sì sì esatto non è che io mi sforzo che io lo studio è così beh di fatto è che sta dilargando la Litterio mania la miss del signor Litterio sta diventando un abbigliamento caldo tutti i VIP vogliono vestirsi come lei la miss amiche no la miss la miss l'abbigliamento suo è diventato un abbigliamento copiato da tutti esatto esatto guardi cosa ci segnalano i nostri followers è scopiato Litterio style vediamolo vediamolo non ci posso scrivere ahhh Maurizio Costanzo vestito da Litterio ahhh guarda si veste come amiche eh sì Maurizio Costanzo vediamo qualche altra foto eccola che arriva no il presidente del consiglio Giuseppe Conte che si veste come lei la persona più popolare del momento ma non ci fa una bella figura eh assolutamente sì vediamo se ci sono altri personaggi no ma questo parlo io no questo è Trump il presidente degli Stati Uniti senza sciuffo è riconoscente perché anche lui mi ha messo la scuzzita vediamo se ce ne sono altri regia ma guarda un po' la regina anche la regina Elisabetta che si resta come lei ma i dei porti sti cappellini e come no lei ne porta tanti è famosa per i cappellini sì e poi vediamo ahhh Papa Francesco al quale dediciamo un grande applauso peraltro Papa Francesco ha la scuzzita che sembra un barrino giustamente vabbè insomma signor Litterio ma lo sta diventando famoso vede che se si lascia guidare diventerà presto una stella di prima grandezza ma io vorrei essere proiettato come un missile Sputnik nella costellazione delle stelle del teatro vedrà vedrà torno al lavoro ci vediamo dopo signora Nadia grazie anche per questa bella sorpresa io l'hai visto quattro comunque insomma non ci ho mai batato io mi vesto così certo questa giacca grigia a quadrette lei non ha giacche firmate no no io una volta passai in desavventura con le giacche firmate sì perché scommi avevo vinto un viaggio a Casino di Malta no 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 sì sì no ci ho giuro a Casino di Malta tre giorni no no a Casino a Casino a Casi no a Casi sì no ci devo mettere l'accento Casi no Casi no no perché se no no è un'altra cosa a Casi a Casi è un negozio bello importante per cattarmi una giacca perché uno si mette un paio di bluji e ci sta come gli eghi ma la giacca deve essere deve essere un vestito certo ma prezzi alti una giacca mille euro ci sono negozi dove le giacche costano una giacca mille euro io prendo 45 euro mese come ci arriva due anni di stipendio certo signora rosa mille euro mille euro assai sono ma sti negozi certo io venendo al negozio una seveste 20 mi informai mi sono già seveste ma quando fai peraltro in questa circostanza hai visto in un negozio molto carino che è appunto assortino Elvira boutique non c'entra vabbè quindi l'hai andato in un negozio dove una giacca costava mille euro io mi avevo accorgiuto che già appena entrai c'era un'atmosfera tutta particolare sa signora si tutta gentile si avvicinava tutto tutto eh beh negozi di lusso prego 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 ci si senta avrei bisogno di parlare col principale che devo fare un acquisto dice può parlare con me ci si ma perché lei qui è se l'ha detto eh ci si io ripeto sì lei qui è giusto mi disse l'ha detto l'ha detto no l'ho detto due volte certo lei chi è lei chi è io sono l'ha detto ma chi l'ha detto il principale ma il principale ha detto che lei è l'ha detto per il cliente che ha bisogno di spiegazioni e di sapere di quello che deve comprare ce lo deve dire a lei a chi all'ha detto che invece è il che ce l'ha detto il principale ci dice tu sei l'ha detto l'ha detto se un cliente tra se ci dice chi l'ha detto dice l'ha detto il principale allora io a chi lo devo dire esatto dice all'ha detto insomma era il lui era il responsabile della vendita e dice guarda io mi dovrei comprare una giacca facile che ho un'occasione un buttante che me ne devo andare a Malta perfetto benissimo mi ne se vuole una giacca di Armani di Versace di Valentino di Lino ma una giacca nuova non c'è ma che c'entra e lui mi spiegava dice no queste sono le marche e certo sono le firme le marche e così ho capito che è una giacca fermata come c'è la firma messa qua o messa qua o messa qua sotto diventa giacca di Versace e lui mi spiegava dice va bene me la fece provare me la fece provare perché mi stavo a pennello dice quanto costa dice mille euro quanto costa mille euro quanto mille euro Maria Santissima e senza maniche quanto costa dice ma lei che sa andare a fare senza maniche dice come un disupezzo per cascare i razzi e certo quindi le maniche che cosa mi servono più non mi servono più a niente certo dice con o senza maniche con o senza bottone costa sempre mille euro sempre mille euro ma l'ha detto me l'ha detto proprio senza dubbio soltanto se non voleva capire come me l'ha detto è stato preciso chiaro sì se no grazie non tanto mi piaccio poteva dire signor Rosso capiglio 45 euro non era bello e allora tornai e poi si accomodai c'ha giacca che mi prestavo alfa ah bravo perché io ho fatto due matrimoni c'ha giacca che mi ha prestato maffio sono i piatti quindi ci sono un paio di piatti ho capito va bene e va bene che ci fa che ci fa non ci fa niente può essere moda può essere di moda può essere può essere moda può essere che mi fanno i pernacchi non lo so va bene veda lei però me l'ho messa e mi sono andato al poto di poto Empedocle a porto Empedocle perché sta nave parte da lì da porto Empedocle parte da porto Empedocle la città di Camilleri la città di Camilleri ma perché ci sono i camilleri ma che ti dice Andrea Camilleri il grande scrittore che ricordiamo un grande affetto all'autore l'autore di Montalbano e di tanti altri l'autore di Montalbano l'autore di Montalbano esatto no è l'autore di Montalbano l'autore di Montalbano va bene e basta c'è sta passerella che ha una passerella capì ma che è così poi che è così poi che è così la passerella della nave certo mi fece un biglietto il biglietto ci ho presentato io il biglietto che mi avevano dato quindi me l'hanno dato gratis a chi è noi come a Roma da sopra c'era una specie di io stesso che mi aspettava che erano qualche 60 cristiani sì chi sta appena io ero prima di tutto appena mi viste dice venga venga accomodatevi e tali andalò com'era? com'era? una casa di salute ma si può definire una donna una casa di salute scusi? una castagnetta una castagnetta vabbè no caliata ancora da caliare ancora da caliare questa mi guarda e fa dice accomodatevi tutti e fa a mia tali andami dice che adesso la porto sotto coperta eccoci io ci disse gioia che ti ho fatto troppa simpatia dice perché che mi porto sotto coperta ma che c'entra Ida mi disse dice no non è che mi porto solo a lei lo porto a tutti a tutti erano 60 cristiani a tali andali allora sei bottani no a 60 cristiani ma per carità ma che dice 60 cristiani perciò che sta metaliato ha finta di non capire niente perché si gira mi fa seguitemi come si girava e che era da colombia ci ha portato ognuno nelle nostre sotto coperta era nelle stand nelle cabine dopo una mezz'oretta io mi scelgo accanai dal super mi affacciai di questa specie di ringhiera dopo un po' si avvicinava uno vestito di marinaio doveva essere uno dell'equipaggio mi chiami e fai ci sta vedendo amico mio lo sta vedendo questo mare lo vede lo vede ci sei certo che lo stai vedendo se mi ha facciato tra l'altro non posso vedere altro che mare perché c'è una mare in alto mare guarda c'è una chiazza di bitumili una chiazza di bitumili una chiazza di bitumili un'altra chiazza di bitumili come finirà questo mare e ci sa come finirà aspettiamo come un duplimo lo asfaltano tutti non senza e poi c'è una chiazza di bitumili purtroppo o fanno tutto purtroppo le sue esagerazioni in questo caso diventano un vero e proprio grido d'allarme per la salute dei nostri mari salvate il mare arriviamo a Malta il mio cuore mi batteva perché mi piacciono i film di gangster i film di gangster che si vede una chi di caioco una chi di cafano che poi ha muciato la stola sotto a roulotte quindi le voleva vivere questa avventura vedere la roulotte per davvero che gira era una cosa che non avevo visto la roulette 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 la che gira basta quindi mangia mi abbiai la roulette prima di tutto i bagagli erano grandi la roulette mi lasciava i curve da passare non vedeva l'ora così 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 e poi l'ultimo che la curva la sbandava perché che visti il casino casì casì no 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 casì no casì no là in fondo tutto fatto di vetro di specchi una cosa bellissima elegante parto come un pazzo di corsa perché non vedo l'ora di entrare aveva premura avanti casì no c'erano due che hanno la mano sopra la testa così che man mano che mi tagliavano che io mi avvicinavo già stavano ridendo man mano che mi avvicinavo ridevano sempre di più e erano a 5 metri da quando ci passai davanti dalle aree mi chiesto con la mano dalle testa e ridono saranno un po' così un po' strolle che parto per e da poi andato non si è accorto che c'era la vetrata c'era il vetro tutti i pareti di vetro vuol dire mettete a cilla una maniglia un segnale un adesivo qualche cosa attaccata proprio niente da poi la testa e ribummai e cascai vicino a chi chiede come eravate arresate certo perché le disavventure fanno ridere perché sardevoli no perché c'avano un tappato ieri prima esatto esatto dimmilo fanno ridere avvertite basta come marco pigliai un po' pigliai entrai entrai anche gioco gentilezza bello ambiente bello a malta i casino sono veramente curati bene io non li frequento però penso di sì appena entrai si avvicinava una bella ostessa un'altra ostessa la quale mi dietro la mano mi disse benvenuto che bello ma bellissimo gli occhi neri i capi di nure una altra castagnetta esatto io a talia pensai ma tutta così sono le donne qua a Malta è bellissima c'è la mano c'è la mano c'è la scusa lei Mattisa beh come ci risa così è ovvio pigliai mi fanno suino suino ma ho fatto che si chiamava id c'è la signorina suino si nervosiva certo ma non ho dubbi guardi è come se fossi lì presente si nervosivo lei è un po' esatto suino non era il cognome lei come si permette di avermi detto quella parolaccia ma quale parolaccia ma quale parolaccia io ci volevo dire lei è lei è deposto lei è Mattisa oppure no esatto ne fare questa discussione idda che si era nervosita che si era agitata io che cercavo di farmi capire e gesticolavo sa che ci passa se presentarono due che aparevano quattro quattro perché erano ognuno di ognuno di era un armadio quattroante uno un armadio quattroante tutti e due armadio otto otto ante in definitiva erano otto io armadio otto ante non ne hai visto mai troppo grandi grandi che ti fa fare apposta certo te ne fai fare apposta uno di questi due non so perché io avevo staricchi che forse attirano avevo due avevo ogni chito tanto usavi i cucuzetti le conosco le cucuzetti con il pollice con l'indice ma chiappavo i ricchi e mi disse gioia ti c'è ti c'è ma o vieniste no mi c'è ma perché avevo il biglietto maggio mi disse allora cerca di stare con due petri in la scarpa perché se no finisce che ti do una pedata lì dove tramonda il sole anche tu mi dici se no ti do e me la dai devi essere di parola avvisi mi mi faccio un saluto di otto metri e arrivai davanti a un banco mi girai chiedi ma te le mi sei uomo avvisato ecco il prossimo passo sarebbe stata la morte la si io una faccia mi dici bello buono buono mi mutai verso il bancone dove c'erano tre donne che sembravano tre angeli eccoci tre angeli gli stai l'occhio e di sopra c'era scritto fiches che fecci che indagano ma perché io mi ci metto perché quindi c'erano tre donne che sembravano tre angeli e proprio esattamente sopra queste donne non c'è il fiches che io andavo le test ma c'è bisogno che ci scrivano stia attento stia attento a quello che dice per favore anche se il pubblico applazie la rosa io mi vini spontaneo che mi scala in tutti i sacchetti italiani mi dice tutti i soldi che avevo su protavo e ci dice scusi con questi soldi quanti fiches ma che dice si dice metà le house ricoglievi i soldi e mi dice un gettone di plastica un gettone di plastica piccolino sapete che si mettono in delle macchine dall'auto lo so li conosco c'è un goccio ci si ma io non intendevo questo perché che cosa intendeva la sua collega ascoltava fammi ci parlare io con questo poco e tornavo una volta all'inizio non riuscivo etichettato così a farmi capire mentre stavamo parlando poco di qua fammi parlare con questo poco levati che ci parlo io con questo poco piglia e scuravo si stavamo avvicinati tutti i due non lo trovo di nuovo sempre quelli che evidentemente la tenevano sotto controllo io signor la rosa come li poti vedere senza guardarla esatto io li ho sentiti esatto li ho sentiti nell'aria chiedose parte sempre sempre quello con le dita grosse mi stavo pigliando la ricca piglia ma che paese ci disse scusami c'è stato un equinozio faccio da noi come prima come fece io stesso mi disse una patata non dovevo pure io stesso e fece un salto di 8 metri per tornare verso dove quindi siccome già sapeva lei dice ci penso io questa volta ci penso bravo sempre con più riguardo bravo certo lo faccio come fece un salto chiedo mi fece ci vengo non c'è bisogno non c'è bisogno ci penso io e mi sa camminare in mezzo ai tavoli bello gente di tutte le razze e beh certo perché sono casino internazionali arrivano da tutto il mondo vanno per giocare gente elegante gente elegantissima gente meno elegante gente di tutte le razze di tutte le merche e pelaturi diceva un poeta esatto quando io all'improvviso mentre sto camminando piglia mi sento chiamare chiamen 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 c'è uno che ride di gusto a queste sue battute chiamen vuol dire che c'ha passato esatto vuol dire che c'è stato a Malta chiamen chiamen vedo che chiamen io l'improvviso sento chiamen 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 va bene ma chiamen di chiamen no ma ma in realtà c'è stato scemo ci sarai tu scemo di chiamen c'è stato topace esatto perché anche negli insulti bisogna essere misurati c'è un limite c'è un limite anche agli insulti c'è meno e cominciava a parare tutto francese io non voglio più fai poter che c'è ma d'acqua come te vuoi asseglie voi che le dà francese le rilas le tricite sono come chi paghiava da carte prego salbrava una serie di picchia massata bravo non to 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 ducatta mia e ducatta è una signora che era vicino a me pa 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 mi dico che poteva tagliare e tagliare e poteva aperte si poteva è normale come me la vada la stessa cosa dice la signora tagliare due carte e poteva poteva un'altra carta scoperta e madonna mia un'altra carta e c'è una signora e io mi tagliava come per dire cosa fai e certo aspettavo come per dire come fai questo mi fa cista 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 che non mi fa rivedere da signora ci fai segnale id mamma mia cista ma perché ma perché cista ma è sicuro sicuro certo non è che faccio brutta figura no 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 dice no signore si cista 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 sicuro sicuro dice signore qui o si batte eh te lo giuro parole o si batte o ci sta o ci sta ci sei la signora la signora la signora diceva tre ore che batteva e sta vedevo non dà la faccia fresca tranquilla eh certo perché la signora dopo tre ore che batteva era tranquilla io come un disacusivo che lui mi dava queste garanzie signora se siamo piccirini ma quando mai quando cosa sa fare sa fare eh certo io prendo questa mano io prendo questa mano a me si la prego e mi ha caricato un tumbo ma certo con un mal rovescio che aveva da nello tanto ma ha fatto bene pooooh il sangue si il mio pensiero quale fu eh non ho avuto dolore il sangue no che vuoi si se mi vedono ma ma certo perché ho fatto un sorriso certo lei non ha dato sazio non ha dato sazio potete mu pigare il camare salutando e tutti contento piga e mininda in altra stanza un invece c'era tutto quasi al buio e tutti caiocavano con le macchinette come si chiamano sdillotto sdilletto 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 moquette 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 sdilletto moquette è un nuovo tipo di moquette che si mette sul pavimento no no è la macchina la macchina è quella che è chi trum rum super coca slot machine slot machine slot machine slot machine sdilletto moquette trum come entrai io per cercare allora signore mia che si dice qua come andiamo certo lei lei sicuramente senza dare sazio allegro senza dare sazio allegro musso peccato si picchia uno si girava mi sa che cosa era di catania che sa dire tre per coca 200 euro tre melezane 500 euro tre grappoli due a 1000 euro tre grappoli due a 1000 euro a malta sono un bugno da latri io non ti vado ma quando mai ma quando mai ma quando mai ma quando mai è lei che non comprende non è che a malta perché anzi salutiamo le amiche gli amici di malta che è un'isola bellissima non è che c'erano tre albicocche che costavano 200 euro o tre melenzane tre melenzane ci sono le albicocche ci sono le melenzane c'è la frutta sulle slot machine ma significa che bisognava puntare o vincere questi non è che costano 1000 euro ma lei è come i sabato ma io non ci vado se lei sta sempre in tra la televisione ma io mi informo vado su internet io chatto mi muovo vago navigo vabbè comunque in ogni caso qualsiasi cosa capiti al signor Litterio Scalisi è sempre qualcosa di divertente e di simpatico perché divertente e simpatico è lui questo meraviglioso personaggio bravo Litterio Scalisi l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti noi abbiamo veramente la grande fortuna lo ripeto con grande affetto visto che da oltre 20 anni lavoriamo insieme addirittura 22 dal 1998 noi abbiamo in Sicilia la grande fortuna di avere proprio un attore che in persona molto bene un personaggio della commedia popolare una maschera della commedia popolare che è appunto Litterio Scalisi ma andate a vedere il signor Enrico Guarneri che tra un po' chiuderà la puntata anche in teatro perché è meraviglioso ci vediamo tra un poco proprio per gustare un momento di Enrico Guarneri a tra poco e come sempre dopo la pubblicità ritorniamo di nuovo insieme anzi signor Litterio mi permetta di ringraziare ancora una volta lo faccio veramente con tutto il cuore gli sponsor che sono un po' la nostra linfa la nostra energia per andare avanti quindi vi chiedo proprio un applauso a tutte le grandi aziende che anche quest'anno hanno investito sul nostro programma grazie anche da parte nostra perché insomma in una televisione commerciale gli sponsor sono fondamentali allora abbiamo terminato anche per questa sera spero che vi siate divertiti quindi siamo arrivati proprio alla conclusione di questa puntata numero 14 ne dobbiamo registrare 18 quindi restate ancora in nostra compagnia poi ci saranno repliche meglio di insomma per parecchio tempo ancora staremo in vostra compagnia di nuovo insieme e quindi chiudiamo chiudiamo di nuovo insieme chiudiamo di nuovo insieme va bene io vado al pianoforte con un momento musicale poi vediamo buonanotte dottor La Rosa torna a casa buonanotte Nadia ci vediamo domani signor Littario lei? no io mi fermo tanto domani siamo di nuovo qua può darsi che stanotte dormo qui va bene buonanotte allora buonanotte salvo stasera leggo una poesia popolare di autore ignoto che è a metà strada tra una preghiera una supplica e un'imprecazione si intitola Lamento di un servo a un santo crocifisso un servo tempo fa di chistachiazza accussipriava un Cristo e ci diceva signore 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 mi pacione mi sciapazza mi tratta come un cane della via tutto si piglia con la sua manazza la vita dici chi manco chi de mia se io mi lagno più peggio ammenazza che ferre mi castia e imprigionia perciò io vi preio signoruzzo chi sta mal arrazza distruggitela voi Cristo per mia risposi il crucifisso e tu forse hai giunchi le brazze oppure l'hai inchiuvati come mia cogole la giustizia se la faccia ne speri caosio la faccia pittia se tu sei uomo e non sei testa pazza metti a profitto sta sentenza mia io non sarei sopra sta crociazza se avesse fatto quanto dico a tia grazie momento serio momento impegnato ormai lo sapete noi continueremo a fare così anche durante le nostre tournée quando ci chiamerete nei vostri comuni nelle vostre città a fare spettacolo troverete sempre un momento divertente un momento simpatico un momento allegro dove Litterio Scalisi è protagonista e poi un gran finale dove invece diventa protagonista poi sempre lui Enrico Guarneri complimenti grazie allora anche per oggi abbiamo terminato quindi vi presento l'altra protagonista di questa puntata la conoscete bene è Nadia De Luca eccola la mia collaboratrice personale che fa le ricerche sempre brava Nadia e poi al mio fianco come dicevamo prima e io al suo fianco dal 1998 Enrico Guarneri Litterio grazie grazie signore e signori salvo la rosa grazie 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 e ovviamente abbiamo deciso anche in questa seconda serie Enrico di chiudere col protagonista delle nostre avventure cioè con Litterio Scalisi che ha una sua filosofia di vita spicciola ma efficace spicciola semplice ma efficace la vita certamente va presa sul serio non bisogna scherzare con la vita ma ogni tanto bisogna anche un po' distrarsi ecco bisogna anche essere un po' meno seri se vogliamo e quindi dire come fa Litterio Litterio dice a mia un nemico e mi scidica va bene la pioggia che sicuramente ti bagna per strada fatela scivolare sopra come tante non tutte ma tante cose della vita bene e con questo messaggio di speranza noi vi salutiamo grazie Nadia grazie Enrico buonanotte a tutti signor Litterio prego grazie a tutti 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 tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti un nemico e mi scidica a tutti a tutti mi rilassa la musica Dice un proverbio a gota e rupa rupa, ci vanno men su quega, non ci guppa e canto a mia, un nemico di miscifica, oh mia, a genti rossa sarrusica, sogno tranquillo e faccio una bella vita, straiato sui come una zazzamita e canto a mia, dove mi piove mi scivola, grazie, buonanotte, buonanotte. Grazie.